Mi è piaciuto scoprirne ogni parte, ogni passaggio, perché ogni passaggio ha avuto un risultato inatteso ed è stato bello interrogarsi effettivamente. Ho scoperto che sono più forte di quanto credessi, ho scoperto tante cose che sento mie e poi io credo che quando siamo realmente convinti di qualcosa che nasce e che si genera dentro di noi poi non vediamo l'ora di metterlo fuori. Ho capito tanto di me, ho capito quello che non avevo capito in tutti questi anni di vita.